ma ma anche qui un altro ma milan 3 1 frosinone è finita ora ne andremo a parlare in questo video prima di tutto like commenti, condivisione e campanelli una cosa importantissima che voi ci avete poco per farne quindi fatele che vi costano poche cose semplici che ci vuole semplici cosa da fare rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi quindi che aspettate a farlo se volete ditemi una volta qui sotto i commenti milanissi tifosi del frosinone e non io adesso vado a dirmi la mia se è prima o il secondo tempo secondo me come è stata la gara milan frosinone ci mettiamo di qua perchè se no non vedete gli semi delle squadre allora è un altro ma è un altro ma perchè il milan vince il milan vince questo è vero va a più 5 su di noi purtroppo però non convince non convince perchè il frosinone onore al frosinone che a milano comunque se l'è giocata ha provato a fare quello che poteva fare però il milan è stato superiore anche se non ha giocato bene non ha giocato bene perchè per me il milan non ha giocato bene perchè parliamoci chiaro la partita del milan è stata 3 tiri 3 gol cioè ovviamente molto meglio vincere che perdere perchè io se fossi un tifoso milanista ci metterei la firma ci metterei la firma giocando male vincendo sempre male vincendo con 3 gol cioè però purtroppo non è così purtroppo non è così il milan vince ma non convince fa comunque 3 gol con gli 11 3 tiri in porta con gli 11 3 tiri in porta nota positiva si sblocca jovic si sblocca jovic che dopo un errore della difesa del frosinone fa anche un bel gol caratteriare un bel tiro al volo 1 a 0 poi assist meraviglioso di mediano che va a pescare pulisic che poi fa uno stop altrettanto meraviglioso pallonetto e 2 a 0 3 a 0 poi del milan palla in mezzo jovic gol e assist quindi serata dove si è sbloccato definitivamente mentalmente tomoni col più città e se fa 3 a 0 il gol il frosinone lo meritava il frosinone lo meritava e lo trova con brescianini all'ottantaduesimo dopo fare le spinte in area fa 3 a 1 hanno vinto hanno vinto e questo è vero però non hanno convinto cioè ovviamente i divosi milanisti ci metterebbero il sangue giocando sempre male e vincere purtroppo non ti va sempre bene non ti va sempre bene comunque oggi si vi ripeto si è vinto ma non si è convinto e il milan deve migliorare su questo aspetto perché si hanno vinto e quella è l'unica cosa importante per carità però anche l'aspetto del gioco secondo me è importante e stasera non se ne è visto proprio perché gli unici trentini che hanno fatto 3 gol almeno sono cinici e questo è da sottolineare almeno sono cinici cinici nota positiva per un'altra nota positiva è camarda comunque è entrato ha fatto il suo ha provato anche a prendere un pallone però l'hanno fermato io vi ripeto camarda più sono i minuti che fa più acquisisce accumula esperienza quindi pioli gli fa fare prima un po di minuti poi 5 minuti poi 10 minuti e più accumula esperienza cioè va bene così va bene così perché stanno calcando i campi di serie a acquisirà anche un pochino di esperienza per la sua carriera futura e questo sicuramente gli servirà come ultima cosa andiamo a vedere la classifica il milan è terzo a 29 punti a più 5 sul napoli in attesa che giochi domani con l'inter mentre il frosinone si piazza undicesimo a 18 punti vedete per il frosinone non è di successo nulla perché non è di certo qui non è di certo qui dove devono fare i punti però si trovano comunque in una posizione di classifica favorevolissima molto molto lontani dalla zona rossa e con grande vantaggio dalla zona rossa quella della retrocessione comunque ragazzi questo è il mio post partita di milan 3-1 fiorentina e si buonanotte milan 3-1 frosinone se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti mi piace da come si inizia con disegna il campanella cose importantissime per il supporto del canale ma anche voi ci mettete poco per fare quindi fatene che vi costano poco e con 5 semplici cose da fare rimanete a giornare sul mio punto del calcio 360 gradi noi ci becchiamo domani ciao ragazzi ditemi la vostra milan istituzione il frosinone e non ci becchiamo domani ciao